Ciao ragazzi, eccomi finalmente tornata con un nuovissimo video di The Sims. Nello scorso episodio il commento che hai ricevuto più like è stato quello di Fabrizio Ben che mi scrive Nel prossimo episodio potresti cambiare il look a Sofia e cambiare la casa facendola a modo tuo e visto che Emilia è giovane adulta, cambiarle il look. Se ti piacciono come idea mi puoi mettere il cuoricino. Certo che mi piacciono e grazie mille per i consigli perché tante volte non so come portare avanti la storia e i vostri consigli, i vostri commenti mi sono sempre utilissimi. Quindi grazie mille Fabrizio per il tuo commento. Sono già andata a modificare il look di Sofia e ve li faccio vedere subito. Ed eccola qua, sono andata a cambiarle anche i capelli. Questo è il suo look quotidiano, un vestitino con questo animaletto carinissimo e le ole. E questo è il suo look formale. Ho scelto un paio di pantaloni chiari, queste scarpine da bambolina bianche e poi un maglioncino bello pesante visto che adesso inizia a fare freddo. Insomma è in autunno quindi direi che il maglioncino ci sta decisamente. Poi questo mi piace molto, ce l'ho anche in tantissimi altri colori. Vi faccio vedere velocemente. Questo è materiale personalizzato. Guardate quanti colori ci sono, c'è uno più bello dell'altro. Anche questo è rosa, me ne sfuggite, non ho visto uno color rosa cipria. Adesso l'ho perso. Eccolo qua. Guardate questo che bello anche. Poi il look sportivo invece è questo. Felpa rosa, pantaloni corti e scarpine rosa. Poi abbiamo il look sportivo e ho scelto questa tutina intera che mi piace tantissimo. La trovo super coccolosa, super morbidosa con questo animaletto, ipua. Questo se non ricordo male è materiale personalizzato, però ce ne sono altri che tra l'altro sono nuovi del gioco. Altre tutine intere di diverse fantasie, di diversi colori, se vi può piacere il genere. Poi il look da festa, questo qui, all star con i fiorellini e le roselline, jeans bianchi e maglietta con una camicia legata in vita. Anche questo look mi piace molto. E poi come costume da bagno ho scelto per lei questo, che è sempre materiale personalizzato, un costumino a due pezzi, con questa fantasia, con questi fiori. Anche lui mi piace molto come costume. Poi ho anche questo di Hello Kitty. Ho tolto il materiale personalizzato, ma non ho tolto quello che fa parte della modalità crea un sim. Mentre invece il look di Jessica non credo di averli cambiati. No, ho cambiato soltanto forse il look quotidiano. Le ho messo una felpa un po' più pesante e dei jeans lunghi. Anche perché comunque lei adesso è un'adulta e poi diventerà un'anziana. Quindi ho preferito un look un pochettino più sobrio, diciamo. E basta, poi forse ho cambiato anche il look sportivo, non è quello. Il look da notte è rimasto. Il look da festa, ok ho cambiato il look da festa. Poi tra l'altro Jessica si è ingrassata un pochettino. Magari la manderemo a fare un po' di palestra. Però è una donna comunque che diventerà poi appunto un'anziana. Quindi secondo me neanche troppo perfetta palestrata. Secondo me anche così può andare. Magari le faremo perdere qualche chiletto soltanto. Detto questo vi faccio vedere anche il look che ho cambiato di Emily e Tommy. Per Emily il look quotidiano ho scelto questo vestito con sopra un maglioncino grigio e bianco. E poi le ho messo le All Star bianche. Look formale. Questo maglioncino rosa, anche questo bello coccoloso e dei jeans. Lei invece, a differenza di Jessica, è magrissima. Forse è fin troppo magra. Però adesso è incinta. Quindi prenderà sicuramente qualche chilo anche lei. Look sportivo non l'ho cambiato. Look da notte, le ho messo questa camicia a righe. Look da festa, questo vestito lungo. Prima avevo un vestito più da ragazzina. Questo è decisamente più elegante, più adatto per la sua età. E poi il look da bagno, no, non ho cambiato nulla. Passiamo a quelli di Tommy. E andiamo al look quotidiano. Ho tolto la manica corta e ho messo una felpa grigia. Questo non è materiale personalizzato. Ci sono anche di questi altri colori. Poi il look formale non è cambiato. Look sportivo, anche qua ho tolto la maglietta manica corte. E ho messo una felpa. Anche questa fa parte di The Sims. Look da notte, pigiama nero. Completamente nero, total black stavolta. Look da festa. Ho messo questa camicia. Che fa parte, no, che è materiale personalizzato. Dei pantaloni bianchi, le all star. E il costume da bagno, ho messo questo costumino rosso per Tommy. Adesso andiamo a giocare con Sofia, Jessica, Emma. E andiamo a modificare un pochettino la loro casa. La nuova casa che piano piano sta prendendo forma. Anzi, quasi quasi, prima di modificare, andare a sistemare la casa, che di solito tengo sempre come ultimo pezzo dell'episodio, come ultima parte del video, quasi quasi vado a cambiare un attimo l'appartamento di Emma, scusate, di Emily e Tommy, visto che è prevalentemente rosa, è più da ragazza. Forse vado a modificare qualcosina, ma forse neanche no, dai. Al momento la lasciamo così. Voglio però vedere la sua gravidanza. A che punto è seguirla un attimo in questo momento. E poi magari far trovare anche lavoro a Tommy. Ed eccoci qua arrivati a casa di Emily. E sono le 11 di lunedì sera. Le vediamo cosa deve fare. Medicina presa. E cosa può fare? Datti un colpo d'anca con qualcuno. Dov'è Tommy? Eccolo qua. Sono ancora tutti e due furenti, perché hanno la barra dell'amicizia completamente negativa. Vediamo se riusciamo a sistemare qualcosa. Separati. No, altre scelte amichevole. Cerca di chiacchierare. Come mai? Cos'è successo? Di punto in bianco si sono messi. Non sono diventati tutti e due furenti ancora nello scorso episodio. Ma non capisco perché. Fai fuoco e fiamme. Critica le tecniche. Spaventa scusati. Vediamo. Se riusciamo a recuperare la relazione. No, assolutamente. Fatemi capire che succede. Che succede? Emily. Bene. Mangia una fetta di torta. Vediamo se riusciamo. Scusati. Tratta freddamente. Condividi la grande notizia magari con questo. Si addolcisce un pochettino. Altre scelte amichevole. Chiedi della sua giornata. Altre scelte amichevole. Altre scelte facciamo impara a conoscere. No, no, non va bene. Comunque dai, mandiamo Emily a dormire. Magari si addolcisce un po'. Dormi e anche tu Tommy. No, prima devi andare a farti un bel bagno. Fatti una doccia. Fai una doccia fredda. E poi fai... Ok, non mi era mai apparsa questa frase. Però facciamolo così magari si calma. Molto infuriato. Conversazione irritante. Sensazione di furia dopo una conversazione spiacevole. Si perfido con qualcuno, ok? Si è sistemato. Adesso lui è felice. Datti una sistemata. Invia un sms felice. Invia un sms felice. Ok, mandiamolo a Emma. Ok, si malizioso con Emily per l'essere vicino in una relazione scadente. No, 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 no. No, scarta. Datti una sistemata allo specchio. Datti una sistemata. Datti la carica anche. Poi però vai a dormire che è tardi. Anche se in realtà non ha molto sonno, però dormi. Bravo. Magari adesso Tommy, alzati. Sei ancora furente. Scrivi in un diario. Facciamo una cosa. Mandiamolo a fare un po' di jogging. Mievi un succo energetico. E poi vai a fare jogging. Ok, mandiamolo via un attimo perché c'è qualcosa che non va. E lei è molto a disagio per nausea mattutina, per la gravidanza. Beh certo, innanzitutto vieni qua e vai in bagno, chi ne hai bisogno. Poi è retro gusto cattivo. Per aver mangiato cibo preparato male, il cibo non era molto gustoso. Si maliziosa con Tommaso, no. Flerta con Tommaso, quello sì. No, proprio lo odia Tommy, lo odia. Dobbiamo assolutamente recuperare questa relazione. Fai una doccia riflessiva e poi, anzi, fai una doccia calda e sensuale. Ma se facciamo fai fichi fichi con Tommaso, vediamo cosa succede. Tommy torna a casa. Jessica fa gli auguri di compleanno ad Emily. Grazie Jessica. C'è Tommy che è annoiato. Lo smanaticcio è in città, clicca su una delle insedinamiche in giro per la città per saperne di più. No, per il momento dobbiamo un attimo cercare di recuperare la situa, la situazione. E poi c'è... Che si sono addormentati tutti e due. No, ok, bene, bravi. Vediamo un attimo cosa possiamo fare adesso. Colpo d'anca. Stringi. Colpo d'anca. Poi facciamo. Fai il baciamano. Vediamo. Se no, altre scelte. Buffo. Fai un'imitazione. Oddio. Era meglio non farlo. Era decisamente meglio non farlo. Altre scelte amichevole. Abbraccia. No. Cercherò di recuperare la loro relazione giocando da sola, se no non ne veniamo più fuori. Intanto Tommy, visto che hai fame, apri il frigorifero. Vediamo se c'è qualcosa. Torta al cioccolato. Beh, sempre torta al cioccolato, però non è proprio il massimo. Ha variato fra 12 giorni. Qualità scadente, però. Quindi facciamo una cosa. Cucina e cucinati un formaggio grigliato, porzione singola. Anzi, facciamo così. Cucina formaggio grigliato per due persone, formato famiglia. Intanto Emily invece viene al computer e gioca una partita, così magari ti svaghi un pochettino. E Tommy, eccolo qua che prepara il formaggio grigliato. E poi deve assolutamente trovare lavoro perché hanno soltanto 27 simoleone ed è pochissimo. Comunque, chiama a tavola, vediamo se viene. Cerca di calmare. Trovo un terreno comune. Altre scelte, buffo. Fai un'imitazione. Scusati. Ok, adesso direi Tommy, vieni al computer e cercati un lavoro. Cerca un lavoro. Allora, seleziona una carriera per Tommaso. Abbiamo detective, medico e scienziato. Che fanno parte dell'espansione al lavoro, quindi possiamo andare al lavoro con lui. Abbiamo Derek che fa il medico, quindi un po' questa, la carriera di medico l'abbiamo già vista. Possiamo magari fare scienziato o detective, però lui in realtà, in realtà lui era, la sua sperazione era di diventare un atleta, atletico comunque. Quindi mi sa che è meglio per lui fare atleta. E magari queste altre due carriere lavorative le facciamo fare a qualcun altro. Atleta è un atleta ha bisogno di forza fisica, velocità, resistenza e intelligenza. Inizia una carriera in cui dei tifosi entusiasti gridano il tuo nome, indossano la tua maglia e ricordano per sempre le tue imprese. Rami della carriera, atleta professionista e culturista. Lavora dalle 14 alle 21 e per il momento lavorerà come portatore d'acqua e sarà a casa il lunedì e il giovedì. Sì, io direi che per lui questo è perfetto. Atleta. Intrappresa la carriera atleta, Tommaso lavora ora come portatore d'acqua presso l'altra squadra sportiva, inizierà mercoledì alle 14. L'incarico del giorno, allenati non iniziato. E bevi un succo energetico e poi vai a fare jogging. Intanto Emily tu pulisci, ripulisci, riponi. Povera Emily che non si sente affatto bene. E niente, adesso passiamo però al controllo di Jessica. Ed eccoci qua, al momento c'è soltanto Jessica a casa. Tutti gli altri sono a scuola e a lavoro. Abiti, cambi abito. Ok. Ripulisci, è brava. E poi magari prepara qualcosa. E... Hai bisogno di mangiare? No, tutto a posto. Perfetto. Vediamo dove va. La responsabilità di Emma non è sufficiente per acquisire il tratto responsabile. Che è successo Emma? Emma è furente e le suona anche il telefono. Ok, il preside sta chiamando rispondi. Sono tutti furenti qua. Però oggi Emma è finita la scuola. Il suo lavoro è soddisfacente ma gli insegnanti pensano che potrebbe migliorare facilmente se solo si impegnasse un po' di più. Allora, avevamo detto che lei non aveva più il suo libro, il suo quaderno per fare i compiti. Quindi, facciamo una cosa. Vediamo se in questa casa c'è un computer da qualche parte, ma mi sa di no. Infatti, non c'è nessun computer. Quindi, prendiamolo velocemente un attimo. Sofia è tornata a casa della scuola, non serve che libri sullo sportello del frigorifero. Il suo rendimento è soddisfacente ma non di più. Allora, facciamo subito una cosa. Sofia, fai i compiti, ecco qua, fai i compiti. E poi, Emma, vieni qua e ordina il libro dei compiti, acquista libri e prendiamo compiti 1. Ok. E quindi adesso possiamo fare i compiti. Emma, basta guardare la televisione. Lei fate tutti i compiti qua. Brava Sofia. Emma è furente, fai fuoco fiamme con qualcuno. Fai volontariato con la famiglia. Mark è tornato da lavoro, molto bene. Facciamo compilare anche a Mark i suoi rapporti, visto che ogni volta che torna a casa deve sempre compilare i rapporti. Altre scelte. Internet compila rapporti. Perfetto. Bravissima Sofia che stai facendo i compiti. Emma invece che punto è? Fatti al 25%. Basta parlare. Vieni qua a farli. Siediti. Furente. Giorno scolastico fastidioso. A volte gli insegnanti possono essere molto fastidiosi. Bravi. Eccoli qua tutti che sono seduti a fare i compiti, a fare i loro incarichi, i loro lavori. Invece Jessica direi, visto che è quasi ora di cena, di prepararla. Servi la cena e facciamo gnocchi. Ok, sì, gnocchi ci stanno. Sofia ha finito i compiti. Sì, bravissima. Ora puoi anche andare a giocare un po', visto che li hai finiti. Quindi vieni qua e disegna forme. Gioca con un giocattolo. Gioca con Cionpi il mostrino. Tra l'altro, sembra anche molto brava. Emma invece è ancora furente. E i compiti li ha finiti, vediamo, completati. Bene. Mark tranquillizzala un po'. E offre consigli sulla carriera. Altre scelte. Genitorialità. Sprona a buttare via i rifiuti. Sprona lo sviluppo di abilità. Sprona a buttare via i rifiuti. Poi altre scelte. Altre scelte. Genitorialità. Costringia. No. Sprona l'abbiamo fatto. Aiuta con i bisogni. Infondi nuova energia. Fai una faccia buffa di dimangiare qualcosa. Fai una faccia buffa. Però Jessica ha preparato la cena ma non ha chiamato a tavola nessuno. Quindi Emma vieni qua, chiama a tavola. Brava. Che sono quasi le otto di sera. Poi dovete andare a dormire perché domani si va a scuola, si va a lavoro, un'altra giornata impegnativa. Ma sono tutti furenti qua. Ok. Bene. Chiedi a qualcuno di fare coppia fissa. Ma non stavi con Leonardo, scusami. Marco non hai finito di compilare i rapporti tu? Sì, ok. Quindi anche tu puoi venire a prendere qualcosa e prendi una porzione. Rimprova l'aspramento e fai fuoco e fiamme e fai un'imitazione. Lagnati della vita è ingiusta. Vediamo. Sfoggia l'app. Aneddoto divertente. Ti la caverai. Cerca di calmare. Complimento sincero. Altre scelte. Amichevole. Abbraccia affettuosamente. Magari si calma un po'. Ok, si è calmata. Entusiasmati per l'aria aperta. Dai Sofia, parla un po' anche tu con Emma. Parla della scuola. Mark invece sta facendo andare la vastoviglia molto bene, Mark. E poi questo, riponilo e riponi. Poi Mark direi quasi quasi vai a dormire che sei parecchio stanco. Dormi. Brava Sofia che stai mettendo tutto, che hai pulito tutto. Bravissima. Molto, molto bene. Emma invece adesso è concentrata. Le è passata la... L'arrabbiatura. Era allegra. Altre scelte amichevole. Chiedi del fichi fichi. Vediamo. Qua c'è un'altra cucina, ma questa sicuramente la toglierò perché non so a cosa possano servire due cucine in una casa. Allora, lei sta andando a vedere la televisione, quindi facciamo guarda la tv. Ah, ok, Sofia dorme già, Mark dorme già, quindi Jessica, vieni anche tu qua e guarda la tv per una mezz'oretta insieme, poi andate a dormire. Ok, poi dormi Jessica, dormi. Anche perché è quasi mezzanotte, sono le undici passate. Perfetto. Tutti a letto prima della mezzanotte. Fantastico. Adesso modifichiamo un po' l'appartamento. Abbiamo fatto l'altra volta la cucina, abbiamo fatto il salotto. E quindi magari adesso andiamo a fare o la camera delle bimbe, delle ragazze, oppure la camera dei genitori. Poi qua fuori, non so se vi ricordate, c'è un'altra piccola casetta che l'avevo pensata per Emma. Quindi magari vado a sistemare la camera di... Questo è il momento, le lascio così. E vado a sistemare la camera dei genitori. Allora, come sempre, vado a togliere tutto. Poi prendo le mie soliti luci e ne posiziono una e una, due. Passiamo al pavimento, vediamo cosa possiamo mettere di carino. Ad esempio questo mi piace. Se no c'è così. Anche questo è molto bello. Grigio. No, preferisco questo. Le pareti invece come le facciamo? Abbiamo questo e sono per i bambini. Così. Che bello, così. Iniziamo a mettere gli oggetti. Quindi letto. E vediamo un po' cosa abbiamo. Che bello questo. Forse però è un po' troppo. Sì, è un po' troppo. Questo qui. Che non è male, mi piace. Altrimenti c'è questo, però troppo semplice. Per il campeggio no, preferisco ancora l'altro. Altrimenti c'è così. Che anche questo non è male. Però dai, lasciamo questo qui. Vediamo altri colori, altre fantasie. Questo, mi piace. Mi piace questo. Sopra il letto, vediamo se c'è qualche decorazione che possiamo mettere. Tipo questo. Non sta male. Magari cambiamo colore. Cosa abbiamo? No, questo è ancora il più bello. Qui abbiamo la porta, quindi magari mettiamo uno specchio, soltanto quello. E mettiamo così. Ok. Da questa parte invece mettiamo l'armadio. E mettiamo questo. Uno e due. Perfetto. Mi è scappata questa luce. Via. E qua mettiamo una cassettiera da questa parte. Tipo questa, uguale all'armadio. Perfetto. Poi, vediamo se c'è qualche decorazione carina. La piantina qua mi piace. Si è interrotta la videocamera, non so fino a dove sono riuscita a registrare. Comunque stavo mettendo un po' di decorazioni sulla cassettiera. E stavo cercando un'ultima decorazione, ma non trovo nulla di interessante. Veramente nulla. Quindi lasciamo così. Ok. Vediamo se c'è un tappeto carino. Ah, ma questi sono nuovi. Non li avevo ancora visti. Che belli. Vediamo gli altri colori. Verde. Si, che dà un tocco di colore vicino alla pianta. Si, lo lascio qua. Mi piace. Ok, e qua vediamo se possiamo mettere ancora qualcosa. Vediamo se magari ci sta una libreria o se è troppo. Ma sì, secondo me ci sta in camera. Quindi spostiamo lo specchio, mettiamo la libreria qui e lo specchio qui. Perfetto. Sposto appena appena così. Mi piace. Mi piace la camera dei genitori. Così abbiamo il letto, gli armadi, la nostra cassettiera con un po' di decorazioni. Questo nuovo tappeto che dà un po' di colore alla stanza. Qua potremmo mettere magari qualcos'altro, però, se c'è qualcosa di carino. Tipo, non abbiamo messo i comodini, però. Questo mi piace tantissimo, ad esempio. Però stona un po' con il resto dei mobili. Questo è un po' troppo grande. E anche questo, effettivamente, forse è un po' troppo ingombrante. Però proviamo uno. E due. Quasi quasi vado a mettere due bajure sul comodino, due lampade. Vediamo che altri colori ci sono. Bianco, nero. Facciamo nero per Mark. E... Bianco per Jessica o tutti e due neri? No, facciamone tutti e due neri che stanno meglio. Ok, quindi, anche la camera dei genitori è fatta. Però, ora che vedo questo, non mi convince più di tanto. Se lo mettiamo di qua... Sì, dai, forse è meglio. O forse non c'entra nulla. No, lo preferisco così più pulito. Ok. Quindi, anche la camera dei genitori è pronta. Nel prossimo episodio continueremo con il resto della casa. Io, come sempre, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se è stato così, vi invito a mettere un bel pollice in su. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate qua sotto nei commenti quello che vorreste vedere, che vi piacerebbe vedere nel prossimo video, perché il commento con più like vincerà. Vi mando ancora un grandissimo bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao! Ciao!